Io gli ho già fatto una domanda che era che cos'è che l'ha spiazzato, se c'è stato qualcosa che l'ha spiazzato nel fare questo film, che l'ha lasciato senza parole o che non si aspettava. Spiazzato però sempre in senso molto positivo, ma io non avevo, forse non mi ero reso conto del livello di dettaglio a cui saremmo arrivati, non mi ero reso conto del livello di accuratezza e di definizione. Tutte le persone coinvolte, quello che dicevo prima sotto, tutto il reparto più tecnico e artistico che è stato coinvolto è neanche di primissima categoria, è proprio fuori categoria. Maurizio Milenotti, Daniele Cipria alla fotografia, Mirella Ginotta all'acconciatura, cioè proprio un po' il meglio che la tecnica cinematografica può offrire. Quindi ho un po', avevo forse un po' sottovalutato l'impegno al punto che una volta messo il piede sul set la preoccupazione era essere a livello di quello che era stato preparato per me. Cosa ti è rimasto della grande lezione di Leonardo? Delle conferme. Sono un grande sostenitore del valore dell'osservazione. Anche forse per il mestiere che faccio sono abituato a osservare quello che mi sta attorno, sia una persona, un atteggiamento o la natura. E questa propensione all'osservazione quasi ossessiva, poi a un certo punto, il dover trovare per forza il segreto del funzionamento di ogni cosa è una cosa in cui credo. Cosa avrebbe pensato, secondo te, Leonardo della professione dell'attore? Guarda che non era così lontano. Il suo essere intrattenitore di corte, PR, il suo saper ammaliare un potente con un curriculum pompato, in parte lo rendeva un po' abile a mostrarsi diverso da quello che era. Quindi se mai qualche propensione attoriale ce l'aveva. E il tuo quadro preferito? Sì. Sai che, in realtà, le cose che trovo più affascinanti sono gli studi, non le opere. Le opere sono eccezionali ed eterne, però, non so, le studi sul cavallo, le facce grottesche, tutti gli schizzi fatti su carta mi piace molto. Grazie Luca, complimenti. Com'è stato recitare da solo con una recitazione ridotta quasi al minimo? Ci sono un sacco di close-up? Insomma, ti sei mai cimentato con un tipo di recitazione come questa? Ovviamente no, perché è un progetto molto particolare, molto a sé. Infatti forse la vera e grande difficoltà è stata, tutte le volte che ero in scena da solo, verbalizzare il pensiero. È una cosa che nella vita di tutti i giorni non sei abituato a fare. Se pensi una cosa la pensi, non è che la enunci. E invece, in questo caso, l'impianto stesso del film imponeva che il pensiero fosse parte della scena. Da solo, in scena, verbalizzare un pensiero è la cosa in cui sei un po' più scomodo, in cui corre il rischio di essere più teatrale che non cinematografico. Invece questo comunque è un progetto che deve rimanere cinematografico. Quindi quella sarà un po' più difficile. E la parrucca? Quanto ci ha impiegato a abituarti? Sai che la parrucca è come gli accenti, è come i dialetti. È una cosa che all'inizio può sembrare ostico, ma alla fine diventa una grossa arma in più. Sia il costume, poi la parrucca fa parte del costume, il costume in sé, sia quell'abito meraviglioso che avevo, che la parrucca, servono per acquisire una postura, per acquisire i movimenti. Tu non lo puoi sapere perché hai capelli molto corti, ma quando hai capelli molto lunghi, la tua testa e il tuo corpo si muovono diversamente. Se sono sciolti, inevitabilmente fai dei gesti che non fai, quindi diventa un'arma in più. E invece da un punto di vista umano, cosa ti ha colpito di più di Leonardo? Non Leonardo artista, Leonardo uomo. Io non sapevo quasi nulla, la mia preparazione su Leonardo era scolastica e annebbiata. Dai un po' per scontato di sapere chi è. Diceva, è Leonardo, ma certo lo conosco, non so cosa ha fatto. Invece la cosa bella, secondo me, del film e della sceneggiatura era proprio addentrarsi nell'aspetto più umano, più dell'essere umano e quindi non sapevo niente della sua infanzia, della sua adolescenza, non sapevo niente della sua fase di formazione. E questa cosa dell'essere stato comunque un ragazzo con una vita non semplice, che priva fondamentalmente d'amore, me lo ha reso, mi ha intenerito. Quanti giorni sono durante le riprese? Quanti giorni di lavoro stanno? Io personalmente sono stato sul set due settimane e mezzo. Quando un attore presta il proprio volto a un grande personaggio, come quello di Leonardo, che poi è amato dal pubblico, dalla gente, si tende in genere ad affezionarsi al volto visto in tv, quindi al volto dell'attore. Come si sente a immaginare che la gente potrebbe affezionarsi al suo volto ricordandolo come il volto di Leonardo? Sarebbe un onore enorme, sarebbe un piacere incredibile. Io stesso, se dovevo pensare a Leonardo prima, la prima immagine mi veniva in mente era l'ottantenne barvuto stanco, quello che si vede un po' alla fine del film, che poi non è, insomma ci sono teorie discordanti anche sull'identità di quel ritratto. Invece l'idea è che la rappresentazione di Leonardo sia anche di uomo più, dico contemporaneo, ma quello che si diceva prima, piacente e nel fiore dei suoi anni, quindi all'apice anche del suo potenziale artistico, scientifico, di ricerca, al momento più alto del suo cervello, quindi a un'età diversa dall'ottantenne, mi piace. Poi in realtà, poi è il senso dell'avere un personaggio che non invecchia all'interno del film e che la mente non invecchia. Se la mente la usi, la tiene allenata, la tiene immobile, la mente sopravvive al corpo. Grazie, grazie. Grazie.